A chi è che ha scritto sui social cose senza senso, che non hanno neanche capo la metoda, voglio rispondere in maniera pacata come un cristiano cattolico del mare. E lo faccio leggendovi una piccolissima, una nota dottrinale, di un minuto, una nota dottrinale ufficiale della Chiesa Cattolica, e quindi vi dico perché siamo qui. Siamo qui perché in quanto cattolici non possiamo debandare l'imprendio politico agli altri, ai musulmani, agli idolisti, alle norme economiche, bancari e groposessualiste, e in fine ai profittatori del momento. La Chiesa ci sorta da sempre a scendere il campo come cristiani cattolici, per difendere i valori fondamentali della fede, della famiglia, della vita e del vero comune autentico. Ecco cosa dice la nota dottrinale, circa alcune questioni riguardanti il comportamento dei cattolici nella vita politica. La Chiesa vennerà tra i suoi santi numerosi uomini e donne che hanno servito Dio, mediante il loro generoso impegno nelle attività politiche di governo. Tra esse ricordiamo Santo Mas Moro, proclamato patrono dei governanti e dei politici, che sempre testimoniare fino al martirio la libertà inalegabile della coscienza. Pur sottoposto a fare forme di versione psicologica, rifiutò ogni incompromesso e senza abbandonare la costante benedità all'autorità e alle istituzioni di Cittime che lo distinse, affermò con la sua vita e con la sua morte che l'uomo non si può separare da Dio, né la politica da la morale. Quindi, che orecchia per intende, l'intende. Del resto, la storia personale, in tema di coscienza, di ognuno di noi parla da sé. Scusa questa parola in crisi, vi lungo pochi minuti perché poi vi prendo lo spazio a persone e a voci, sicuramente più toriamo delle mie. Perché sono sceso? Perché la domanda è questa più spontanea. Ma per me, come cattolico cristiano, la risposta è facilissima. Ho accettato la candidatura con il popolo della famiglia, sia dal primo momento da quando Angela mi ha chiamato, non ho avuto nessun determinamento, però molto più semplice. Il popolo della famiglia è un movimento politico, naturalmente, di ispirazione cristiana, che ha come centro la dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Naturalmente mi ha avverto a tutte le persone di buona volontà che hanno a cuore la difesa, che come vedete nel nostro programma, ma che soprattutto hanno a cuore la difesa dei valori che non sono nevociati, come detto la vita, dal concepimento fino allo suo fine naturale. Quindi la centralità della famiglia che è garantita dall'articolo 29 della Costituzione. Quindi il diritto dei figli ad avere un padre o una madre, alla dignità della persona. Il popolo della famiglia diciamo che si pone come barriera, si pone come un'argine, contro, diciamo, queste leggi di pesticide, contrari, diciamo, al diritto lavorato. Quindi vanno segnali sui gai, i matrimoni qualitari, il genere delle scuole. Ricordatevi della legge genna, approvata non molto tempo fa, quella sulle unioni civili. Fortunatamente, in grado di Dio, all'interno di quella legge c'erano due norme che secondo me erano abominibili. Cioè, tra le unioni civili, quindi tra le persone dello stesso sesso, c'erano due norme che erano l'obbligo sulla fedeltà, nella fedeltà, quindi tra un uomo e un uomo, una donna e una donna, e addirittura anche la state civiltà, l'adoption, le elezioni, ovviamente. Fortunatamente, in assenato, non è passata, si è renato. Quindi, parlavo appunto del genere delle scuole, delle liberazioni delle prove, dell'eutanasia, ma che questo scenderebbe nel dettaglio loro che sono sicuramente persone più prevevole di me. Io comunque dicendo una cosa, e oggi noi cristiani siamo chiamati a una scelta, perché ci dovremmo di conto una battaglia. La battaglia tra il bene e il male, tra il vero e il falso, tra la cultura della vita e la cultura della morte, che trasforma, anche per motivi economici, la persona in una cosa, in un numero. Quindi si dia proprio una dignità umana che è inallenabile e intangibile. Quindi bisogna, secondo noi, puntare sulla famiglia, puntare sui figli, e puntare sulla famiglia e puntare sui figli significa creare lavoro, ricchezza. Quindi voglio chiudere con un concetto espresso dal cardinale Angelo Comastri in occasione tre anni fa della trentottesima assemblea annuale del nuovo momento dello spirito a Roma allo Stadio Limpico. Lui per giorno disse, capite perché dipendiamo la famiglia, capite perché la Chiesa dipende la famiglia, la famiglia non l'abbiamo inventata noi, l'ha inventata Dio. E chi può mettere sul posto di Dio? Chi può capire più di Dio? E poi ci ha ricordato una confidenza che gli aveva fatto il cardinale Francis George a Cilessimo di Chicago. Il quale mi ha detto, io penso di morire nel mio vento, ma ho paura che il mio successore morirà in barriera. E il successore ancora morirà fucilato. Alla domanda del Piedere Comastri è Minesia perché. Lo sa perché. Perché dipendiamo la famiglia. Perché diciamo che la famiglia è formata da un uomo e una donna e una vita deve nascere da un padre e da una madre. Saremo perseguitati per questo. Queste sono delle cose che a me mi sono rinascendo in mente e che cose sono ancora nella mio scensi nel mio cuore. Quindi chiudo la mente con una frase di Don Bosco che un giorno disse a dei suoi giovani non dovete avere maura. Il Signore è con noi. E se ti è con noi siamo la maggioranza. Quindi forse il mio spirito forse il mio spirito ma rimane proprio il mio spirito per aver guardato il mio posto un augurio che vi faccio e che il prossimo 4 marzo delle aziende politiche il popolo della famiglia ottenga un buon risultato per avere la possibilità di mandare al governo qualche nostro accettante che appunto difenda ad ogni posto a qualsiasi posto questi vinciti questi valori che non sono negosiati. Quindi questo è l'opera che faccio e ringrazio per la vostra cortesa attenzione e passo la parola ad ora grazie a tutti io sono Grazie diciamo che è stata una decisione un po' pensata all'inizio ma io mi ha tirato in valli in diretta facebook per gli candidati mi ragazzi ok finché dopo 4 anni mi proseguo ho detto vabbè ci mettono la faccia in gira perché è giusto pure fare la propria parte e allora come loro impegnamente sono ho deciso chiaramente si dice a scendere in campo io dico di salire in campo perché qualcuno ha detto che la politica è una delle più vaste forme di carità e quindi anch'io voglio prestare il mio servizio affianco ai miei compagni di quartare affianco al nostro segretario che sarà presto il momento che torna 17 sbaglio ecco non voglio raggiungere altro perché il tempo è breve non voglio andare a quindi buona battaglia a tutti e speriamo che il nostro impegno sia a poco presto da più persone possibili vi dico soltanto una prima cosa il fatto che ci siano stati come si dice sono arrivati nostri oltre 200 società che hanno sottoscritto il sostegno al popolo della domina in Italia è una cosa che realmente ci viene è una realtà che non spunta da nulla come si usa di politica sono spunta di a nulla no non lo spunta da nulla spunta da un po' che esiste e cammina realmente per le strade che vive che lavora in il pionno che è nel quotidiano e che deve fare la sua parte abbiamo avuto la piazza due volte adesso è il nostro dovere fare la nostra parte in politica perché la prima per me è un ambiente è astratto è un ambiente reale dove tutti i cittadini e noi siamo qui per questo grazie bene io parlo poco perché l'ospite d'onore è la realtà di Gianfanto Amato mi racconto semplicemente la mia esperienza ho avuto la fortuna di conoscere il movimento proprio il primo giorno 11 marzo 2016 a Roma quando durante l'assemblea costituente è stato proprio sfruttato quel giorno ho conosciuto il presidente Emane Di Norti il segretario nazionale d'avvocato Gianfanto Amato e mi sono subito innamorata di quello che è stato detto in quel contesto perché si parlava di un nuovo modo di fare politica mettendo al centro la persona e seguendo gli insegnamenti di Dio questa è stata proprio la spinta propulsiva che mi ha fatto capire che avevo trovato un nuovo motivo per impegnarmi in intere sociale fino a quel momento sono stata presidente di Cettra Iutola Vita per nove anni e ho invitato insieme a mio marito tantissime donne a dire no all'avorto perché per me è sempre stato fondamentale la difesa della vita l'ho vissuto in prima persona che avevo dovuto scegliere tra dire sì o dire no e alla vita di mia figlia ho avuto coraggio ho detto sì e quel coraggio ho dovuto infondarlo a tutte le altre mamme perché alla fine ogni donna rimane madre sempre in qualsiasi scelta che fa se oggi siamo qua è perché 43.534 firme e 97 collegi sono state raccolte e dobbiamo dare anche un grande grazie e dire un grande grazie ad Angelo insieme a tanti altri militanti in tutta Italia sono veramente impegnanti tantissimo e grazie a voi appunto che avete messo la vostra firma il primo miracolo come ha detto l'avvocato Gianfranco Amato è stato compiuto adesso lavoriamo per il secondo ovviamente io che ci guida però noi ci dobbiamo mettere il nostro impegno quando si parla di miracoli quindi dobbiamo lavorare insieme il nostro è un momento di proposta non di protesta e siamo basati sui valori non sul bassa e non siamo né di destra né di sinistra e la nostra lotta è proprio quella di far conoscere il vero e non il falso anche perché come dice sempre un mio amico scrittore adesso si cerca di fare attraverso le parole far passare anche il demonio come un diversamente buono purtroppo in questa politica recitata c'è un'azione antropologica della persona la persona è ridotta a un oggetto invece dobbiamo tornare a dare dignità alla persona proprio dal concepimento alla morte naturale le prostigiane abbiamo visto nella passata legislatura le leggi veramente mortifere dallo T.D.L.C. che vorrebbe comparare le unioni civili al matrimonio naturale ma questo non potrà mai avvenire per un semplice motivo che la famiglia fondata sul matrimonio proprio tra loro e una donna è proprio solo l'unica forma di famiglia che può procreare quindi è lì il fondamento e il motivo per cui deve nascere una famiglia e difendere la vita dal concepimento alla morte naturale adesso diciamo fatto capire attraverso le leggi che è una cosa normale no non è normale perché rimane un omicidio grazie all'avorto alla legge 194 25 milioni di italiani marzano all'appello 25 milioni ora i politici che non sono del popolo della famiglia vorrebbero integrare o 5 milioni di persone che non fanno parte della nostra cultura ecco ma non solo passata la legge dell'avorto che inizialmente doveva essere utilizzata per le mamme con grandi patologie genitali piuttosto che effetti con grandi malformazioni di fatto sono state utilizzate come contraccezione di massa vogliono attraverso le date le disposizioni anticipate di trattamento dove vorrebbero fare intenderci che la persona come veramente scegliere di non sosprire quindi avere una dolce morte ci dicono ma la morte non è mai dolce ecco le date le date vorrebbero far morire le persone di fame e di sedere la mente umana non può accettare la morte di sete e si muore dunque con sofferenze atroci anche se si è in sedazione profonda quindi è un'altra menzogna che ci viene detta per portarci all'eutanasia ma se noi diamo allo Stato la possibilità di scegliere se ucciderci o meno va da sé che lo Stato che non ama le persone come la famiglia infatti sarà assolutamente un calcolo di costo-beneficio noi saremo un costo nel momento in cui saremo malati terminali piuttosto che malati cronici piuttosto che non potranno pagarci le pensioni ecco daremo in mano allo Stato un'arma con cui uccide accedere al mente quindi non è motivo di modernità di aprire nuovi orizzonti ma è proprio un motivo di orrore dal punto di vista ma non solo la passata registrazione abbiamo visto come ci sono state quelle scelte di scelte di diecini di testamento ma le prossime leggi saranno il matrimonio equitario l'incesto la pedosidia la prostituzione abbiamo già avuto in Germania l'esperienza di dieci anni di legalizzazione di prostituzione non è così fatto altro che aumentare la perversione quindi non è anche quello un canale giusto di migliorare le nostre vite noi come popolo della famiglia stiamo sulla linea di invece recuperare le molestiave quelle della prostituzione come ci segnano con Benzi attraverso l'associazione Papa Giovanni XIII comunque adesso voglio passare invece la parola all'advocato Gianfranco Amato e vi chiediamo di far conoscere il movimento e il popolo della famiglia farlo stare con una croce sul sicolo il 4 marzo soprattutto le persone quelle che non si riconoscono più la maggioranza delle persone in Italia non si riconoscono più in nessuna forma politica ecco dobbiamo far sapere che è nato il movimento del popolo della famiglia perché la mia esperienza è quella che quando sentono le motivazioni per cui siamo nati tutti gli uomini che sono la maggioranza di buon senso non potranno far altro che votarci grazie 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 vedete quando nasce e come nasce il popolo della famiglia c'è un momento molto particolare ed è stata quella che poi viene definita come la più grande manifestazione di popolo dopo il dopoguerra cioè il grande e impidicabile momento del femminile al ciclo massimo il 30 gennaio del 2016 dove si vede con cui voi magari c'era sono scese in piazza decine anzi centinaia di migliaia di famiglie per dire una cosa molto semplice che la famiglia è solo quella composta tra una donna come abbiamo sentito prima e opporsi a quella legge di cui appunto abbiamo sentito prima cioè la legge che parificava anche le unioni tra persone nello stesso sesso come famiglia ci fu un grande momento davvero indimenticante e un po' soprattutto un po' bene questa piazza purtroppo come sappiamo poi non ha contenuto lo peggio nel senso che la legge ahimè fu approvata e a quel punto noi capimmo che ci trovavamo davanti un video qual è? o tornare in piazza a protestare oppure inutilmente oppure cercare di fare qualcosa e io mi ricordo che stai molto colpito dal convinto che fece un'ora inzio quando gli disse oi guardate ci sono quasi due milioni di persone che non ci provassero e la sua risposta fu due milioni anche tre quattro cinque milioni tanto quello che è tolta sui numeri io ho i numeri in piazza e vado avanti da lì si capì che il problema era scelto o tornare in piazza oppure cercare di cambiare i numeri io mi ricordo sotto il parco tutti quei politici che applaudivano se dicevano anche i voti cattolici e poi venti giorni dopo soltanto venti giorni dopo come Giuda applaudivano al senato l'approvazione della legge traditore del franello e c'ero eravamo tanti e lì si capì quindi che si eravamo di fronte una scelta e la scelta fu quella di scelta direttamente politica attraverso il popolo della famiglia o anche qui dovevamo scegliere se fare un partito personalistico un po' come Giuliano Ferrara e Magdiano che puntasse subito alle politiche oppure se era il caso di fare qualcosa di diverso proprio dare al popolo a questo movimento di popolo la possibilità di agire scontamo quella seconda ipotesi perché era proprio quel popolo che doveva avere la voce e quali fu quella della strategia decidemmo di presentarci alle elezioni amministrative proprio per creare questa rete nazionale dappertutto in Italia le prime elezioni amministrative erano già nel 2016 quindi fu davvero un'avventura incredibile perché appena nati decidemmo di accettarci a pensare che già dopo tre settimane dalla nascita di questo movimento riuscimmo a candidarci in tutti i capoguoghi di provincia in Italia primo in Napoli in realtà poi ci presentavamo l'anno scorso nel 2017 sempre in tutta Italia lì si ottengono dei risultati più importanti a Perone superando 3,5-9 cento 5,5 voti già c'erano i primi eletti nelle istituzioni e comunque tanti circoli in tutta Italia da Bonzano fino a 8 in Sicilia ma questa rete si è creata per il giorno che stiamo vivendo oggi per arrivare adesso alle politiche perché vi dico qual era la situazione prima del cosiddetto Rosatello era quasi impossibile per noi c'era uno sbarramento dell'8% al Senato e si parlava dello sbarramento del 5% alla Camera davvero molto c'era possibilità oggettivamente poi la rete prevedeva 1.500 firme per ogni singolo collegio e quindi anche questo era e soprattutto l'autenticatore che fossero notari o eletti nelle situazioni che non non avevano potevamo già dire che lasciamo perdere ma incredibilmente accade un attimo un attimo con la prelegge di cui avete sentito parlare si chiama Rosatello che cosa è successo intanto la soglia di sbarramento è scesa al 3% sia la Camera che il Senato e quindi almeno oggettivamente la portata prima ma soprattutto le firme sono passate da 1.500 a 1.750 e poi a 350 e cosa molto più importante è stata ammessa solo per questa tornata elettorale ora la possibilità anche agli avvocati cassinzionisti di autenticare e quindi questa cosa ci ha consentito di impegnarci e anche se era difficile sapete quale è stato il risultato c'erano 25.000 firme da raccogliere complessivamente in tutti i 97 collegi ed era abbastanza preoccupato e trovare più di 900 candidati beh sapete a quanto siamo riusciti derivati a 43.534 firme quasi topia ce l'avete dei pesci si è rompa praticamente abbiamo 100 anni e oggi ci troviamo qui ed è stato un movimento di popolo sapete un miracolo perché è un miracolo se voi immaginate senza una struttura amministrativa senza un erro senza copertura mediatrica senza funzionario senza neppure una sede a Roma fisica così è stato un popolo che si è mosso guidato da un'amore di un'amore di un'amore di un'amore di un'amore io ancora sfido il più scettico e il ganito degli altri a darmi una giustificazione razionale di questo lavoro non c'è non c'è quindi ci siamo ma torniamo a giugno del 2017 quando ci presentavamo allora con questo simbolo tutti ci guardavano come rimarziati diciamo cosa c'è per la famiglia secondo loro la famiglia sì è un concetto importante ma ci dicevano non è un tema da porre nel dibattito politico cioè la gente è interessata al fisco alla sanità alla sicurezza all'economia al lavoro cosa c'è per la famiglia noi cercavamo di spiegare che la famiglia invece da san giovanni di moro il secondo è il prisma attraverso cui si vedono tutti i problemi sociali non è un tema è il tema ma non c'è l'interfondo ci guardavano come dei vincenoti e insomma beh tanto prima o poi accorgerete che non ha senso questa cosa alla gente non interessa e comunque non può essere un tema da campagna elettorale noi ci siamo buttati abbiamo fatto capire che è così e guardate la soddisfazione dopo due anni so se avete fatto caso adesso tutti fanno di famiglia 5 stelle noi siamo una forza pragmatica riconosciamo che la famiglia è una forza del paese la sosteniamo senza farci sotto tanti ricami teorici e rispetto alle coalizioni fantasma che ancora non hanno contenuto la storia del paese noi possiamo dire con forza che la famiglia e la natalità sono il filo rosso che adisce le nostre idee su fisco scuola e sanità il prisma il partito democratico farà del tema del sostegno alle famiglie una bandiera della campagna elettorale è argomento centrale per il primo anno tornare alla famiglia non deve essere la bandiera dell'identità dei cattolici in politica ma la sfida di tutti i cittadini una visione che dimersi ai vienaci cattolici sull'altra cittadinanza peccato che stanno ancora governando la procurata città ma di altro che sicuramente sarà il primo prossimo primo anno la lega propone di concentrare le risorse sul sostegno alla famiglia in altra realtà attraverso misure concrete che prevedono la virtuità degli asili sui modelli francesi eccetera da sempre Giorgia Rion Fratelli d'Italia sostiene la necessità di avviare la rivoluzione del governo che mette al centro della famiglia e consenta alla nostra inazione di invertire i tanti democratici per questo una volta al governo Fratelli d'Italia mette al campo il più grande piano sostegno di natalità ma vista in Italia Fratelli d'Italia vuole essere il partito di riferimento della famiglia e di chi ha il figlio dell'Italia ben giuro meno tasse meno l'unorrazia meno stato più famiglia forse Italia come il partito moderato si riconosce nel primato da persona e che da famiglia beh a questo punto uno potrebbe dire beh allora portiamo questi qui che senso ha un po' la famiglia ora a parte il fatto che avete visto è stato richiamato prima comunque sia a parte la famiglia noi abbiamo come principi ispiratori quelli del compendio della dottrina della chiesa che guardate io mi sono accorto girando in Italia che il 90% voglio essere generoso dei cattolici che ho incontrato non sanno cos'è il compendio della dottrina anzi quando sentono la parola dottrina e pensi ma cosa c'entra la teologia esattamente no il compendio della dottrina della chiesa è un programma politico perfetto si parla di lavoro di fisco di sanità di occupazione di migrazione di ambiente è proprio perfetto solo che non è mai stato è sempre stato tenuto l'uso nel cassetto ecco il popolo la famiglia pensate oggi è l'unico partito in Italia che ha formalmente ufficialmente ma soprattutto integralmente assunto come programma il proprio programma politico il compendio di risoluzione di 319 pagine del compendio ma allora se tutti parlano di famiglia adesso perché non votarvi e perché nascere di poco la famiglia per due ragioni una di carattere etico e una di carattere pratico vi spiego bene intanto che c'è tutto un popolo che vedete sui tre principi di non negoziare vita famiglia e libertà ed educazione pretende di avere una linea univoca senza cedimenti senza libertà di coscienza astensione e questo non c'è negli attuali partiti del centro-destra perché tutti i partiti del centro-destra su questi temi Fratelli Italia Arena Forza Italia hanno avuto assoluta libertà di coscienza vi faccio un esempio così capite bene prendiamo gli ultimi due gravi provenimenti in materia etica chiamiamola così l'eutanasia e il divorzio volete sapere come si sono comportati questi ecco qua questo per esempio è l'eutanasia la legge 219 alla camera prendiamo la camera guardate come si sono comportati Fratelli Italia 1 a favore 4 contrari 6 assenti lega 6 contrari 13 assenti Forza Italia è riuscito a fare tutto 2 assenti 3 a favore 12 contrari 33 assenti e guardate che avete sentito ieri una notizia di questa matrizia se ne va quella nuova legge sul mio testamento una malata di islam di 49 anni e ovviamente dice il centro studi di latino formato da magistrati del centro di università di avvocati il caso numero è l'eutanasia prendiamo adesso il divorzio breve come hanno votato ecco la legge 55 2012 Fratelli Italia 1 favore 3 contrari 4 assenti 1 astenuto 5 favorevoli 7 contrari 4 assenti Forza Italia 2 astenuti 25 favorevoli 8 contrari sono 8 e 35 assenti ma questa è stata devastante perché subito dopo l'approvazione della legge attenti bene i divorzi sono aumentati di centavista 57% e sono lo costo perché non c'è bisogno dell'avvocato butti divorzi si va in comune con una marca bastano 16 euro per avviare la pratica e comunque facoltativa ma il dato più inquietante è stato che il 20% delle coppie cioè una coppia su cinque ha più di 65 anni 20% hanno distrutto la serenità delle coppie dei nomi oggi si diventa basta una identità ma in comune se ci è inizia pratica come dal punto di vista etico lo abbiamo ricordato prima per noi è impossibile pensare a tassare la Costituzione un comportamento di legge è assurdo tra l'altro pensate che mi dicevano degli amici in Germania questa cosa c'è già e soprattutto nei giovani è impressionante cioè i ragazzi sabato sera hanno sostituito il pub con quello banale anzi ci organizzano persino per i salvi delle feste di Hitler e delle feste di Laura tutti in compagnia e soprattutto in un momento di crisi sono triplicati in Germania è una fontina di sopravvivenza tante donne sono costrette a farlo perché comunque se non lo hanno hanno la loro bella partita prima e via dicevano come ho risolto il problema si è detto prima guardate è molto semplice perché questo problema della Costituzione che tra l'altro riguarda anche la dignità della donna va risolto alla radice non va nascosto nella sua valore delle stanzette e delle domanari e come si risolva? se fosse pure il governo domani mattina con il programma di protezione dell'associazione comunità Giovanni Paolo Giovanni XXIII che ha fondato questa cosa là dove l'associazione è attiva davvero ma prima basta mettere i soldi se noi fossimo al governo l'associazione quando Giovanni XXIII diventerebbe interlocutore privilegiato del governo con tanti fondi sedi strutture basta solo dare i soldi diciamo i soldi non ci sono allora spiegatemi come si fanno trovare dalla sera alla mattina 20 miliardi 20 miliardi per salvare Monti e Paschi e qualche panca metta il primo se si trova così potete che allora se può trovare qualcosa che ha il fatto di un'amministrazione non è una questione di volontà politica che è diverso poi tra l'altro pensate mi accetto onesto c'è anche un partito intanto per stare in tema con la lega che ha candidato una come Giulia Buongiorno Matteo Salvini Giulia Buongiorno si candida come capolista nella lega in diversi territori del paese ma voi sapete chi è Giulia Buongiorno? chi lo sa? lo sapete a parte il fatto che sta nell'avvocatessa di e ve lo dico io Giulia Buongiorno è stata favorevole al disegno del test scalfalotto contro la cosiddetta omofobia quando fu bocciato un precedente tentativo di trucure e reati di omofobia lei parlò di arrecatezza culturale dell'Italia e scuolamento tra politica e società e auspicò l'allineamento del governo dell'uomo mediante le citazioni ai tempi del referendum sulla legge 40 si pronunciò a favore dell'abrogazione e aderì all'associazione delle donne a fianco di Amagonino in un duetto con Amagonino a radioarticale il primo dicembre del 2015 ha rivendicato la grande conquista delle donne ottenuta con il riconoscimento del sacrosanico delitto alla porta eternamente singolo non si è mai infianzata a 44 anni ha deciso di fare un figlio attraverso la ricordazione artificiale il padre ha dichiarato lei ho sempre desiderato tornare a casa e sentire solo il rumore dei miei assi e questa è la famiglia che ho avuto una cosa è la candidata capitista della vita triste poi che qualcuno è femminile si è soggetto di lei ma questo è vero che lo dico con un cuore che piace o poi c'è un problema pratico soltanto etico siamo lontani ma da un punto di vista pratico e vi faccio un altro esempio quando nel 2008 ci fu le elezioni che per lo scondivisse il suo governo o tratto con una maggioranza bella solida di data il centro resta si presentò con un programma si intitolava sette missioni per il futuro dell'italia una di queste missioni la seconda era riguardava la famiglia ma soprattutto riguardava l'introduzione del consente familiare sapete cosa è il consente carico non è giusto che paghi le stesse tasse di uno singolo si guadagna le stesse soldi quando uscì questa cosa io decidè finalmente in Italia forse questa giustizia anche per incentivare la famiglia questa cosa forse si apre e io confesso totale ovviamente passò del tempo e il consente familiare non si fece poi qualcuno di voi ricorderà l'associazione il forum delle associazioni familiari recitato in dizioni in tutta Italia furono raccolte un milione 71.342 firme ecco qua famiglia fiscale titolò quelle firme pesano sono l'ultimo appello della politica sono come un urlo conficcato nel cuore del palazzo per scongiurare un rio ma nonostante pensate che mi ricordo che furono portate tutte a quell'inale quell'inale tutti i scatoloni e quelli qua furono depositati davanti a quell'inale tantissimi ma il colletto non faceva gli scatoloni le ho presi e puntati nel vicenditore allora io conoscevo uno dei tanti collaboratori del ministro Tremonti che era quello che tagliava e era un ufficio mi dice scusa ma come si fa a ignorare un milione di italiani e lui mi rispose tranquillamente cioè guarda che a governo il metodo che si utilizza è quello del mercato delle banche cioè ognuno tira tira dalla sua parte una coperta strettissima e allora che è successo che la lega tirò per l'ottomona alleanza nazionale chiedeva per gli statali forse Italia tirò per la desiderizzazione delle imprese e lui mi disse questo amico e quei milioni di italiani erano orfanelli non avevano una casa qui dentro non c'era nessuno che tirasse ecco che allora se capito che noi dobbiamo fare questo cioè il popolo della famiglia deve essere quella casa di quei milioni italiani che possa costringire un governo di centro-vestre a varare politiche per la vita la famiglia e l'educazione ma c'è soprattutto la famiglia e così tra l'altro in quel governo c'è anche Giorgia Di Loni non è che ci siamo salutisti quindi che cosa deve fare la tua famiglia deve essere proprio questo elemento di condizionamento di un futuro che è riuscito a destra io guardate faccio sempre un esempio di quello che ho vissuto in Cile un po' di tempo fa io ormai giro il mondo sono andato in Cile pensate un po' e non sapevo niente della situazione politica non sapevo neanche chi mi si votava e ho scoperto ho incontrato un uomo cos'è Antonio Castro senatore cattolico mi ho sposato nove figli appartiene all'esperienza del governo Mariano Schoenstatt uno bravissimo e lui mi ha raccontato un po' la situazione che cosa accade in Cile? che a novembre parte la campagna elettorale e abbiamo un candidato di centrodestra e un candidato di centrosinistra di solito teatrino il candidato di centrodestra è un miliardario più ricco di Berlusconi quasi a livello di Trump che però è molto libera quindi è di destra tra virgolette però può discutere sui nozze gay e tutto un mondo che potremmo definire il mondo delle femmini idee in Cile non si identificava né con questo né con questo più o meno la situazione che abbiamo genitale grande estensione grande delusione questo tizio che cosa fa? dice non mi punto che mi candido lì si andava due giorni questo si candida tra le risa di tutti perché appena annuncia di essere candidato i sondaggi donano dallo 0,5 all'1% al sesto posto ridicolo significante lui dice non importa io vado avanti perché sento che c'è un popolo deluso che vuole fare qualcosa questo accadeva verso giugno luglio quando a settembre io vado a trovare lui la moglie ecco qua lui mi fa vedere un sondaggio e mi dice guarda che addirittura si sta mobilitando sta succedendo cose incredibili i sondaggi quelli riservati mi danno intorno al 4-5% è incredibile a novembre ci sono le elezioni e sapete a quanto è arrivato questo qui all'8% 7,9% la campagna ha fatto mobilità questo popolo e che cosa è successo tenti questo serve a noi che ovviamente i due candidati non sono andati a nessuno e il candidato e il candidato di centrodestra è dovuto per forza andare da lui a chiedere l'appoggio lui l'appoggia da lato in cambio del rispetto di questi principi e infatti la notizia più bella è stata viniera vince le elezioni citene grazie ai voti del provito a casa infatti lui è riuscito a rincare è arrivato al 54% gli sentiva proprio quell'8% per vince e allora lui mi ha detto io voglio essere il chiodo impiantato nella coda del serpente del centrodestra perché allora solo così condizionandolo sono certo che questi non sballerano sui cittadini non rinunciati ecco è esattamente quello che devo fare esattamente quello che vuole essere il popolo della famiglia e sapete la situazione siccome non ci saranno grandi colpi di scena la situazione che noi avremmo dopo il 4 marzo è tutto già segnato è quella che ha fatto vedere molto bene la MGA che è l'agenzia demoscopica di ventana di Ticina 7 elezioni centrodestra ad una vicina di 6 gira e così il centro destra è al 37 e 6 per cento praticamente gli mancano 16 dai 16 ai 20 deputati per raggiungere la maggioranza e sapete cosa corrispondono questi 16 esattamente al 3 per cento che avrebbe il popolo famiglia se noi superassimo il 3 per cento saremmo questi 16 deputati da 300 a 317 che mancano il centro destra quindi quello che vuol dire è che il centro resta diventerebbe maggioranza ma condizionato sull'esistenza da 70 famiglia e allora forse per la prima volta dopo 70 anni potremmo avere anche il concetto familiare in Italia forse forse questa è la grata sconese e guardate non è vero come dicono che la povera famiglia toglie i voti al centro destra è una bugia perché anche dal punto di vista la situazione è anche questa guardate indecisi 14,2% schiena bianca 2,4% astenuti 33 3,8% sapete quanto fanno il totale di quelli 50,4% cioè più della metà degli italiani ormai totalmente più non sa cosa votare o ha deciso di non votare o ha deciso che vota la scheda bianca e lì sono questi che noi stiamo attraendo dando una spieganza alla prospettiva dell'esistenza tra l'altro vi confesso candidamente che tra quelli ci sarei stato anch'io io quest'anno se non avessi potuto votare popolo e famiglia per la prima volta in Italia a 57 anni non avrei votato che è triste che è triste quindi ecco perché il problema è farsi conoscere perché è tale adesso 50-200 una speranza dopo la delusione però qui è un punto fondamentale il primo esperanto ci sono due modi di concettivare la politica uno che è semplicemente la conquista la gestione e la spartinazione del potere l'altro invece che è una politica che è capace di diventare la politica ve lo spiego in maniera semplice conoscete questo uomo? lo conoscete? oh sapete questa è una storia un po' simpatica i radicali nella storia del nostro paese non hanno mai avuto un grande consenso territoriale pensate che solo nel 79 sono usciti a superare il pericento alla camera non si è andato neanche poi sono sempre uscitati tra un 0,5 del 2% se lo sbaramento del 3% che abbiamo oggi ci fosse stato l'ora pannelli buonini non sarebbero mai entrati per l'interno però la domanda è ma questi qui hanno cambiato l'Italia sì o no? è purtroppo sì l'hanno cambiato divorzio avvolto transiglie e come hanno fatto senza avere un possesso territoriale come altre visioni di conto semplice perché loro sono riusciti a concepire una politica non come spartizione di potere non gli è mai interessata ma come il suo di conto ma è cultura della morte sono d'accordo ma sempre cultura qual è la fragilia dei cristiani anche quali che non capiscono che non si sono mai create le condizioni per una presenza politica che fosse capace di generare cultura della vita della famiglia dell'educazione perché sapete che è successo in Italia la storia che i comunisti nel partito comunista hanno puntato sulla rivoluzione sociale e hanno perso i democristiani hanno pensato a tutto davvero a tutto fuorché ai plantari di fondere politiche di difesa della vita e hanno perso i radicali hanno puntato sulla rivoluzione e hanno vinto e guardate che questo riguarda comunque la tragedia del cristianesimo generale il cristianesimo oggi in Italia nella sanfio collia del monito nel grande San Giovanni parola II nel 1932 quando in un discorso del Neck disse una fede che non diventa cultura non è interamente accorta interamente pensata fedemente risposta cioè una fede morte che c'entra e saluta e infatti quando nel 1994 la parte del Musconi con la rivoluzione liberale la ricordate perché quella rivoluzione non c'era perché era una rivoluzione in plastica non aveva sostanza culturale non era una rivoluzione in plastica e infatti fa vita ora vedete essere avere a cuore gli altri i principi i valori non è una questione di essere fissati cioè ma voi siete fissati in questa vita in questa famiglia in questa situazione no perché se tu non hai una dimensione trascendentale se non sei ancorato a dei valori fai una coordinata fai la politica che più nuova meno vi faccio anche più un esempio sapete qual è il problema numero uno del nostro paese l'emergenza con lei maiuscola la priorità assoluta non è non è la crisi non è l'economia non è il lavoro non è l'immigrazione non è la sicurezza è la natalità l'ultimo dato ufficiale dell'istar ci dice che a fronte di 474 mila nati di cui solo 100 mila non hanno 100 mila italiani ci sono 608 mila morti cioè questa differenza questo ghetto che vedete non è più colmabile noi non è che stiamo scomparendo siamo già anche primamente scomparsi e il 2017 è ancora peggio guardate che si dice l'attualità picco ultima chiamata invertire la ruta dice che i dati istitati relativi al 2017 ci danno consenso negli demografi di stimare un numero finale agganciante appena 463 mila nati contro 665 mila morti il doppio quasi e la politica cosa fa rispetto a tutto questo tra l'altro in età fertile pensate che le donne italiane oggi tra i 18 e i 49 anni per un'età non diventano matri e il tasso di frequentità è del 1 e 34 e guardate dal 2010 46 44 42 era uno spugno e si inficchiate e ovviamente il 17 è un'altra di compenso i ultronovantenni cioè quelli che hanno più di 90 anni sono aumentati in maniera circondiziale erano 400 mila nel 2002 sono 726 mila nel 2017 siamo un paese di vecchi e di morti e la politica che cosa fa rispetto a tutto questo tra l'altro ecco anche qui l'unico dalle l'unico di investimento primati è che per la prima volta allo scorso gli stranieri hanno sfiorato la storia dei 5 milioni sono più di 5 milioni fare fede costa troppo meno nozze tra i giovani addirittura le singole donne crescono in maniera esponenziale ma perché mi ho detto i valori perché la politica perché non risponde a questa cosa qui non ha una proposta io ne ho parlato con un politico importante e anche la società di governo e io ho detto scusi se vi ho fatto la verità ma noi c'è la situazione di lui e siamo praticamente scompati sapete qual è stata la risposta ed è stato illuminante lui ha detto sì sì lo so questi dati non si possono negare allora perché non ha fatto il mio ma perché per me quando io muoio finisce il mondo allora ho capito se tu hai una visione materialista allora a questo punto è chiaro a chi te ne frega del 2050 2060 io non ci sarò non ci saranno e attenzione questo è pericoloso perché se tu se tu hai una responsabilità del ben comune sei un criminale e qui si capisce la grande differenza di cui parlava De Gasperi nel dopoguerra De Gasperi disse sapete qual è la differenza tra lo statista e un politicante che lo statista guarda le future generazioni il politicante guarda le prossime elezioni questi hanno una visione che va oltre il giro di Giorgio decine e in realtà noi oggi non parliamo statistiche cioè non c'è una tasse qualitiva che si preoccupa del 2060 2070 fregata nessuno ecco perché non è vero che essere privi di una visione trascendente e attaccata ai valori non ha effetti concreti e come? ora vedete però se noi facciamo un paragone con un paese che credete come noi la Francia che ha 60 milioni di tanti noi abbiamo avuto 473 mila nati di cui 100 mila stranieri a fronte in Francia c'era 785 mili cioè il doppio quindi ma perché? perché là hanno politiche ora vedete il taladro pensate che il consente familiare fra quello che dicevo prima delle tasse in Francia è in vigore dal 1250 più solo quindi non riusciamo a farlo e il problema non è il programma non sono delicente non ce ne ha inventato niente questo problema si risolve semplicemente prendendo il modello francese e applicando in Italia è un problema di volontà politica non è un problema di cosa fare c'è già la soluzione tra l'altro anche sull'altro tema caldo c'è la soluzione della donna parliamo di migrazione ma voi vi siete mai chiesti perché la Spagna la Spagna che è molto più vicina all'Africa dell'Italia anzi addirittura ha per entrare in Italia in Africa se è utente per lì perché non è un problema che abbiamo qui perché quando nel 2006 furono invasi da 30.000 immigrati e gli Spagnoli ha i suoi astri che cosa fecero? due cose primo fecero accordi bilaterali con questi paesi di provenienza in cui sono essenti noi costruiamo città abbiamo lavoro occupazione investiamo ma dall'altra parte fecero il Sile il sistema integrato di vicinanza esterale cioè esterna è un sistema che funziona così attraverso delle dimostrazioni messe dentro la costa collegate con i radar degli aerei che passano i satelliti i radar delle navi cioè tutto un congetto integrato per cui praticamente la Spagna è diventata una frontezza impenetabile e soprattutto tutto ciò ha avuto il rispetto dei terrenti non ci vanno neanche è tutto monitorato 24 ore su 24 attraverso un sistema davvero impenetabile non solo tra l'altro basterebbe vedere hanno fatto addirittura uno studio questa rivista Negression Policy Institute di un istituto importante ha parlato di questo sperimento spazio c'è un libro dedicato a questa roba e l'ultimo rapporto di Flomedex del 2015 spiega perfettamente come funziona e allora perché non lo facciamo più noi perché forse questa roba più rente a qualcuno e anche qui non c'è non è problema di soluzione la soluzione c'è e qui si applica si può è un problema di volontà politica e potremmo andare avanti tutta la sera se per ogni cosa c'è una soluzione anche alla crisi economica perché l'Europa alla ripresa noi no perché c'è una volontà politica di non fare questo ecco perché parte quindi il popolo e famiglia che come sapete nella scritta è nato a non c'è niente anche le scuole anche questo è l'unico movimento che si parte contro questa colonizzazione di l'oro questo indottrinamento che come sapete avviene attraverso questi documenti del 9MS quelli che parlano di una situazione infantile o identità di genere da zero e che sono realizzati attraverso tanti progetti come questo per esempio non siamo uomini o donne siamo come ci sentiamo di essere in questo momento questo è un messaggio delle famole genere che hanno raccontato mia figlia che non è tanta confusione parla ma 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 noi siamo una famiglia cattolica insegniamo i nostri figli a rispettare tutti a voler bene aiutare i più deboli ad essere guadomi misericordiosi crediamo nella parità dei diritti ma non nella parità dei sessi uomo e donna sono diversi perché così vuole la natura a scuola luogo dove i nostri figli dovevano stare sicuro stanno invece insegnando la confusione dei sessi trucca le bambine a femmina che vestono le bambine di damastro a questa a questa mamma era tornato un bambino truccato un grosso come qualcuno che ha vestito la donna o la femmina che tra l'altro è dilagato in tutta la Toscana la madre di tutti questi progetti qualcuno lo ricorderà è famigerato il gioco del rispetto introdotto a Trieste che tra l'altro è qui la follia dei giochi di gender e quindi travestiti a me dice ma cosa c'è con la politica questa che c'è perché questo gioco del rispetto finì in Parlamento lo scandalo degli asili gender è finito lì è solo la politica può fermare tra l'altro la cosa più agghiacciante del gioco del rispetto era tanto problema le bambine sì certo ma le istruzioni le linee guida per gli insegnanti il punto 2 4 diceva perché insegnare dalla scuola di infanzia gli insegnanti della scuola di infanzia hanno la possibilità di lavorare con le bambine e le bambine che vivono una fase emotiva in cui la personalità e l'intergenza si dava sul progetto cioè da 0 a 6 anni l'asmi come il popolo almeno sono testi di loro lo dicono sono i genitori che lo dicono il problema e vedete sapete che proprio per questa cosa qui del genere nelle scuole ci fu un altro fermo in te nel giugno del 2012 piazza San Giovanni stra piena ed era tra l'altro in questa occasione ci fu anche la presenza di Chico Arbetto il fondatore del momento degli obiettivi comunali ed era un popolo un popolo fatto di famiglie così ora vedete ci sono tanti attacchi alla famiglia e perché è importante la politica anzi è essenziale perché il Parlamento è diventato il luogo dove si decide la visione antropologica del mondo come nasce fecondazione artificiale come muore come avete visto il panesino chi sei masco cos'è la famiglia e la famiglia è sotto attacco all'interno legislativo ci sono tanti esempi che ne faccio tutti molti non sanno per esempio che in Italia esiste un disegno di legge nel 155 depositato in Commissione di Justizia del Senato dove si chiede la legalizzazione dell'incesto nella relazione introduttiva i senatori e i proponenti spiegano che si tratta di eliminare un reato controlaurale di cui non si capisce l'utilità se non per creare confusione tra peccato e reato tipica di denti di Stato confessionale e non d'agito medoso e per mostrare com'è normale un rapporto ingestuoso i senatori e i proponenti anticipano il caso di Jacqueline André fratelle e sorelle in Francia che non si ha avanti anni oppure gli spagnoli Daniel e Rosso fratelle e sorelle che hanno due figli di venti e di 13 anni e perché in Spagna Vincesto è legale e questi due fratelli che hanno due figli oggi sono riconosciuti come unione civile nel registro di unione civile con tutti i diritti unione civile ma non si è contenta no Spagna fratelle e sorelle si adono dopo e che scusate adesso lo vogliono in un altro modo perché sempre così sapete non si ferma mai questa roba ma sta passando anche in Italia il concetto mi hanno riferito che ho recuperato che c'è una fiction per esempio che si intitola Troia di Spati dove c'è una copia di fratelle e sorelle che condivano in maniera esplicita ma anche i romanzi pensate che nel romanzo è un corpo di vipere di camminteri Montalmano si imbatte nel caso di Cesto e non lo schimpatizza perché? perché è un buon camore e sapete io ero buonò in Puglia settimana scorsa e alla fine c'era un gruppo di ragazzi sono venuti di ragazze molto intelligenti tra l'altro e mi ha contestato io non sono d'accordo e lei va bene dico ma allora scusa sei favorevole anche a Dicesto e lei tranquillamente si se tu e tu ti consenzienti certo lei perché deve impedire la libertà cosa le fanno? alla fine andava avanti e gli ho scusa tu mi stai dicendo che tu avresti letto con tuo padre e ci faresti un figlio si e e la gente che ha capito ha detto ormai troppo tardi si sono resi conto che questo papà che è già molto più avanti di quanto lui ha diminato l'hanno già cambiato i ragazzi e il dato più incredibile di quella sera è che abbiamo saputo poi che il padre era in sala e non ha detto niente anzi si è messo a attaccarmi dicendo che l'uomo può difendere l'uomo sessuale quindi respira ma non ha chiesto niente ci siamo segnalati capito? ma noi siamo ecco perché per esempio Spagna questa è una ragazza di 18 anni che sta all'altando il figlio ha avuto con il padre biologico di 36 a noi farebbe vedere per i nostri ragazzi alcuni già è giusto in Svezia due genitori che hanno insieme che hanno in comune due fratelli che hanno in comune i genitori già perché oggi in penale si possono tranquillamente sposare ma noi siamo oltre sapete siamo ai cosiddetti matrimoni multipli avete sentito parlare se qualcuno non ne ha sentito parlare per piacere ascolti questo passaggio del discorso del senatore della repubblica Carlo Martelli del movimento 5 stelle così chi ha votato 5 stelle sa cosa ha votato e così capite di che cosa si discute in Parlamento il primo esempio è che in Italia non si è avuto mai il coraggio di mettere l'esposizione del fatto che il matrimonio debba essere la nota binaria a due anzi questa cosa viene continuamente veduta come famiglia naturale ma naturali la natura non prevede questo la natura sempre per rischio qualcosa l'altro il matrimonio binario è una costruzione sociale data da un certo tipo di religione allora se uno voleva veramente fare qualcosa di avanzato come per esempio per esempio i buntisti doveva prevedere qualche cosa di l'unico perché non possono sposarsi più persone stipano degli accordi importanti questo è un livello di tutela sociale perché se veramente si dice che l'amore è per essere libero allora anche 4-5-6 persone devono ottersi sposare con le evidenti economie di scala che si otterrebbero in termini di tutela dei minori perché se un bambino ha più genitori non è di un spostaggio delle eventuali identità due o voi pensate che questo qui sia uno fuori di testa allora premesso che è un docente universitario insegna matematica al politecnico ed è uno dei più gravi matematici che ha già in realtà ma poi a me piace la vostra reazione istintiva sapete perché mi piace? perché ha ragione lui è istintiva perché se tu metti in discussione il concetto di famiglia come società naturale per uomo e la donna se l'unica cosa che conta è il sentimento e se decide il Parlamento lo Stato la maggioranza cosa è la famiglia scusate perché è due dove sta scritto? Adamo Lieva la Bibbia ma Dio non esiste per il Parlamento per lo Stato di Arco se l'unica cosa che conta è il sentimento e se decide lo Stato la maggioranza cosa è la famiglia perché per esempio cinque materie reciprocamente unite da un vincolo affettivo innamorati tra di loro non possono sposarsi e fare famiglia se lo Stato se il Parlamento la politica la maggioranza decide cosa è la famiglia si tratterà si tratterà di trovare il materasso sufficientemente anche per tutte e cinque ma è un problema personale e guardate non è uno scherzo se l'unica cosa che conta è il sentimento e decide lo Stato allora può essere famiglia tutto quello che lo Stato decide è essere famiglia ad esempio che so avete visto l'ultima pubblicità della centrale dell'Arte di Brescia che gioca sulla parola formato uno scatolone la famiglia non ho formato quel papà trans noi non avevamo capito bene cos'è questa roba l'abbiamo capito dopo quando la prestigiosa rivista americana Time ha parlato di queste nuove famiglie americane eccolo qua e l'articolo ci dice siamo giunti finalmente al punto in cui il Presidente è stato inizialmente capò tranquillamente parlare di fluidità di genere noi abbiamo questo bambino con la mamma con la barba le braccia pelose che lo guardano e sapete stanno dilagando queste famiglie questo è un altro barba va a fiallata questo qui ha vinto una causa una battaglia legale contro lo Stato del Canada cioè è riuscito a far riconoscere allo Stato questo bambino come un bambino di un atto con sesso indeterminato maschietto finuncia in Canada un atto solo ha rilasciato il documento ufficiale stato al Canada che così ha conto la richiesta di corredotti genitori della sessare del piccolo osservato mio figlio deciderà solo in futuro con lo sesso non lo stabilirò io aspetta lui decidere come identificarsi non ho intenzione di pregiudere la scelta sulla base di un controllo dei genitali e dichiara abbiamo il primo tesserino uvodere mando termine indeterminato il primo tesserino sanitario dove sesso anziché n maschio e femmina c'è indeterminato e ha dichiarato genitori quando sono nato i medici osservarono i miei genitali e avanzarono la presunzione sull'identità sessuale e questa loro presunzione mi ha purtroppo accompagnato tutta la vita assegnare il sesso alla nascita rappresenta una relazione che è durante il bambino e l'avvocatessa che ha seguito il caso Barbara Ferro che è molto famosa ha detto l'assegnazione del sesso nella nostra cultura avviene quando il medici forza le gambe del neonatomo che osserve il suo genitale ma noi sappiamo che l'identità di genere del neonatomo si sfrutteranno alcuni anni topi sulla nascita e guardate qui non stiamo parlando attenti di un bambino che si sente tra virgolette bambina in un corpo sbagliato no questo bambino qui non potete parlare non sappiamo cosa si sente ma quindi biologia addirittura supera la biologia e anche quello che sente la gente e sembra uno scherzo sì sembra uno scherzo però attenti perché questo è il riconoscimento pubblico ufficiale giuridico di uno stato come la statura di Canada che non è proprio la coerza che è noi è uno stato seguito ma questa roba sta arrivando da noi arriva inevitabilmente come faccio un altro esempio nel 2014 il servizio sanitario nazionale britannico ha definitivamente ha utilizzato l'uso di un farmaco che si chiama conapertini è un blocante ipotalanico usato perché mi raccura e mi raccura la prostata hanno autorizzato l'uso di questo farmaco per bloccare la pubertà dei bambini e danni più tempo per decidere sessi aspetti o femmini questo è il farmaco sapete come viene somministrato sono iniezioni messe lì nello stomaco una più o meno al mese della pancia che nei maschietti blocca la crescita del piede e il cambio della voce nelle femminucce blocca lo sviluppo del seno e il ciclo mestruale perché fanno questa cosa qui per rendere meno invasivo l'eventuale futuro ipotetico intervento di cambio di sesso che potrebbero fare dopo la maggiorità niente terra noi abbiamo già ragazzi di 17-18 anni in verbo con la voce della donna e ragazzi di 17-18 anni senza e senza le situazioni quindi approcci e i dati stanno di lagare guardate i dati della pubblicità nel 2009 c'erano altre 4 case nel 2015 960 e sarà lo sarà lo sarà grazie ovviamente all'interesse compliciuto delle case farmaceutiche e delle pindighe che fanno queste cose e sapete cosa abbiamo scoperto che in Inghilterra questa cosa di là anche perché credi è di moda è di moda avere il figlio come il figlio di che viene bombardato tutti i mesi con questa d'accorda è così fascinica in Spagna tutto questo può essere fatto anche senza consenso dei genitori dice il mancato consenso dei genitori può essere impugnato davanti alla giudizia e il giudice con un provvedimento attivo può come la città può applicare questa luna guai ma voi sopra dove vedi dove rispondi eh no guarda che paese eh no ma lì c'è magari ci sono i genitori giocare a rima colere e perché dico questo perché tre anni fa la regione toscana su espressa richiesta di applicazione di questo fan con per chi per bloccare la per i bambini all'ospedale Carritti di Firenze ha devoluto la questione al comitato etico regionale e tutti i giornali nazionali di destra di sinistra laici attorci ne hanno parlato per i giorni di giugno Corriere della Sera a venire dalla Toscana all'ospedale Caneggi di Firenze e nella decisione arriva la notizia di un progetto politico per non venire la proprietà libero Firenze sciocca il fatto quotidiano blocco pubertà repubblica bimbi fatti tempi delizio di onnipotenza all'ospedale Caneggi di Firenze ma voi le robate quando gli diranno nonno ma tu dov'è quando in Italia tutti i giornali parlavano di questa forria di blocco di cose noi vivevamo in campagna e non leggevamo i giornali ma a una sera a una conferenza quando io ho fatto questa domanda a te gli adulti cadevano così in fondo in fondo a sinistra c'era un gruppo di adolescenti ma quindi c'era ragazzi ragazzi questi qui alzano la mano e mi fanno guardi che in America oltre che allo stomaco dello stomaco l'iniezione la fanno anche nella gamba e sapevano più cose erano più informati di me ho detto ragazzi voi come state state queste cose e tra le tante cose mi hanno detto che c'era una trasmissione che io non conoscevo real time che parlava di questo me la sono andato a cercarla adesso vi proietto un ospezione di un documentario in cui si vede una mamma che fa queste iniezioni a un bambino sembra femmina di livello maschio ora voi scontrate un doppiaggio in italiano dell'originale inglese questo bambino che sembra una bambina ha mantenuto la voce da maschio che è ancora più impresentante ma guardate già adesso esatto evidente e sono molto preta quando mi avevo fai le tizioni della gamba perché è molto costo da 1000 dollari a 1000 euro 1000 dollari a 1000 a 1000 a 1000 a 1000 a 1000 dollari a 1000 a 1000 dollari di scelare bene il tuo spazio potenza evidentemente la sirentia fin a quando la buona per ecolo non sospensione non è fuori tutto ok sì solo un po' riposare ok e allora Ciao mamma, grazie. Adesso mi brucia, ma ogni volta sempre di meno. Si. Si vede un po' in bocchino, tra l'altro cosa un parco. Mamma, grazie. Sempre uguale, la paura è sempre la stessa. Ora ti inizi a piangere, ho sempre paura. Ma spesso non mi romano. Sto facendo la cosa giusta. Il fatto è che sento che non è stata una mia decisione. Io non l'ho affronzata, non ci prenderebbe a essere se stessa. Un giorno sogno di avere un marito primoroso, che abbia voglia di baciarmi in ogni momento. Si, ma questo non significa che dovrai essere sempre perfetta e impeccabile senza un cambiato cuore vostro. Oh, no, 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 no. Ma la stai esprimendo attraverso la cura, la attagliezza, l'amore. Si. Sicuramente. Essere donna è anche questo. Se io che mi importa solo di apparire super femminile, che mi importa solo degli altri e del più ruolo da ragazza, sarei semplicemente gay. Invece io sento qualcosa dentro, una certezza, una voce che mi dice Donna, 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 è questo che sei una donna. Per adesso, le indizioni permettono a Maxi di conservare i suoi tratti femminili e di tornare a libertisti con i suoi emici. Durante il soggiorno a campo, i giovani transgender approfittano di ogni occasione per apparire più femminili possibile. No, a noi non è una beneficenza, in chiesa mia no. Tutti i bambini. Tutti i bambini. E a voi ha impressionato questa, questa, quel video? Mi chiedeva? Bravo! Suspetto! Suspetto tutto! Tecnico! Grazie! Grazie. Vi ha impressionato questo libro? E conoscete voi Superquark, questa rivista, questa trasmissione in prima sedata Rai, la conoscete voi? E allora ascoltate questo passaggio. Le famiglie oggi in fronte a questa situazione cosa chiedono? Le famiglie si stanno organizzando, finalmente sentono bisogno di fare un time work. La cosa che chiedono, e si sono reso conto, una cosa che noi scienziati sapevamo perfettamente, è che la transessualità con un ciclo estissimo. I primi segni della discoglia di genere appaiono durante veramente i primi anni dell'infanzia. E allora le famiglie chiedono che in Italia ci sia negli a quanto viene largamente fatto nel resto del futuro vale a dire un intervento di ritardo della libertà in maniera tale da permettere al ragazzo che sta crescendo di avere più tempo per decidere e sentire veramente in quale direzione andare. anche per te combattere, per così dire, contro gli ormoni che nel frattempo hanno agita, hanno prodotto la libertà è sicuramente più faticoso e anche più costoso nella vostra vista europea. quindi si ritiene vantaggioso intervenire ricambando e hanno perdito tempo. Hai capito? Sembra che ci sono migliaia di famiglie in Italia che stanno pregando per poter fare quello che fa quella mamma che in Italia non si può fare, in America c'è in Italia. E sta già arrivando, tra l'altro questa cosa sta passando e vogliono farla passare addebitando il costo a servizio sanitario, come già avviene per il cambio sesso o già avviene per la proiezione artificiale o per l'avvolto. Mentre, questa è una questione che qui le sai, mentre ci dice solo 24 ore che una famiglia su tre in Italia è costretta a rinunciare alle spese mediche, soprattutto per i debiti. E questo è il rapporto delle rispes dell'Italia del 2017. Il 48,3% delle famiglie non riesce ad arrivare a fine mese, il 48,3%. Il 44,9% per arrivare sono costrette a utilizzare i propri risparmi. Il 28,5% ha problema a pagare le rate del mutuo. Il 42,1% di chi è affitto ha problemi a pagare il cambio. Il 13,8% è costretto a tornare dai genitori. Il 32,6% si fa aiutare economicamente dai genitori. Il 21,2% percepisce di essere povero. E il 35% dei trentenni vive con la peghetta di papà. Siamo ridotti così. Vi dicevo prima che io sono stato in Puglia e lì c'è una viaga incredibile. Pensate che dal 2008 sono 20.000 i giovani che sono in Puglia. Ci sono città come Molfetti e Modugno dove si rappresentano il 14 o 13% della famiglia. Ecco perché bisogna dare la risposta a tutto questo. E guardate, la foglia che avete appena visto si ferma soltanto lì, nel Parlamento. Dove sta questa rivoluzione antropologica si sta realizzando? E tra l'altro noi, la propria famiglia, ha scelto di non avvalersi nella sconciatoia. Noi abbiamo voluto coltere il rischio e raccogliere le firme per dimostrare che proprio esiste un popolo territorialmente presenti in tutta Italia da, come dicevo, da Norto fino a Bonzano. Perché si poteva fare il campimento. Ema Bonino, guardate cosa dichiarato alle 16 e 36 del 4 gennaio. Ci siamo trovati in mezzo a una trappola di una legge discriminatoria. Combatteremo questo testo con i 12 corte, anche a livello europeo. E' una vergogna questa legge. Perché non riuscire a raccogliere le firme. 40 minuti dopo, alle 16 e 57, Bonino, grazie a Tabacci... Cioè, voi non so se vi ricordate di questo tema. Era un cristiano, stato anche il presidente della regione di Lombardia. Tabacci ha prestato il proprio simbolo, perché se il parlamentare ti presta, ti farà tutta la possibilità, tu non devi raccogliere le firme. Lei era la corte e la legge, pubblicamente, diventata una luce buona. Noi non abbiamo scelto questa scorsione. Anche se ce l'avevano offerta. E si è utilizzato un popolo. Un popolo. Ma dove vedete in quale partito vede il popolo così? E pensate che, ecco, ci si capi da tutti quelli che sono candidati o sono testimoniati presenti, non pagano l'euro. Sapete perché? Perché negli altri partiti si paga per essere caponista e quindi con la certezza del passato. Ah, gli eccedenti li fa un punto, un test. E' una... Guardate questa inchiesta del fatto quotidiano. Con 150.000 euro il PD è quello che propone Sergio Ducano. Segue la lega, che ai candidati richiede 145.000 euro. Poi 5 Stelle, 114.000 euro. E poi Forza Italia, che ormai diritto si è contenta di si trattare l'euro. Ecco il tariffario della democrazia in Italia. Poi dal 2008 tutti i partiti impongono i propri candidati ed eletti una tassa sullo schermo del Parlamento. La chiamano erogazione liberale, ma di libera unità hanno più poco. Quei contributi sono tanto obbligatori da fungere da una condizione stessa da candidatura e da permanenza della Camera. Anche in forza, addirittura private, atti notamenti e contratti. E simonia, vendono già le cariche. E tra l'altro noi ci siamo imbarcati questa avventura senza sapere come la finire. Potrebbe davvero finire come il ciclo. I primi sondaggi, ancora prima che iniziasse la campagna, ci davano addirittura al 1,5%. IPR Marketing e XE, che è l'agenzia atmosfrica della RAI, davano la potenzialità del 1% prima ancora di partire. Ricordate con le incini. Cast aveva iniziato con lo 0,5%, 1% e ha dato l'8%. Perché se il popolo si mobilita, allora davvero può avere di tutto. E noi dobbiamo dare a questo popolo immenso, che era il ciclo massimo, una speranza. Per chi volesse approfondire, oggi c'è... Io, in anteprima, ho portato questo ultimissimo libro che approfondisce culturalmente anche tutto quello che abbiamo detto e a dare le indicazioni concrete riguardo al programma. Ma la cosa più importante è che tutti noi dobbiamo sentirci mobilitati. Perché ognuno di noi conosce 10 persone. Ha 10 persone che lo stivano e che si fiedono di uno. E noi dovremmo riuscire a contattare queste persone, considerando che poi ognuno di noi ha solo tante 10 persone. Perché se non diamo questa prospettiva, questa possibilità, davvero è triste. Perché oggi viviamo una disolazione e un abbandono che ricorda un verso del Corri della Rocca, che è un'opera di un inglese, che dice così In luoghi abbandonati noi costruiremo con mattoni nuovi. Vi sono mani e macchine e argita per nuovi mattoni e calci per nuova calcina. Dove i mattoni sono traduti, costruiremo con pietra nuova. Dove le trami sono marcite, costruiremo con un nuovo legname. Dove parole non sono pronunciate, costruiremo con un nuovo linguaggio. C'è un lavoro comune, una casa per tutti e un impiego per ciascuno. Ognuno solo, il popolo e la famiglia è questa casa. Sono impegnato a dire che noi non abbiamo nessun finanziamento e ci autososteniamo, per cui l'acquisto del libro serve anche per dare un contributo per dare un'esperienza. Salutiamo tutti. Chi vuole un altro brazo? In caso di voi è per la pazienza. In caso di voi è per la pazienza, sicuramente. Grazie a tutti per aver guardato questa salata e ci ha insegnato molte cose, penso che ci ha insegnato molte cose. Sono cose che nessuno conosceva, quindi poi crescerono un pochettino di più. Grazie a tutti.